Allora, prima di iniziare con il video di oggi vi ricordo che questo è il sito di Pampling, trovate il linkato di descrizione qui sotto, ci sono tutte quante le magliette in catalogo a 10 ore e 90, ce ne sono veramente carinissime, ho avuto un'impressione alcune di quelle più interessanti e questa offerta durerà ancora per poche ore, quindi se vi interessa date un'occhiata il prima possibile. Se vi interessa vi ricordo che potete aggiungere un paio di calze a vostra scelta dal catalogo, al vostro acquisto e se usate il codice VILASZLO le calze non le pagate. Quindi se vi interessa sapete cosa fare, poi vi ricordo che trovate in tutte le librerie su tutti gli store digitali il mio nuovo libro Cosa guardo? Un'emozione del cinema, che è una guida su film e serie da guardare in base al vostro stato d'animo del momento. È diviso in sezioni, una sezione corrisponde ad uno stato d'animo specifico e per ogni sezione ci sono 10 consigli tra film e serie. Vi ricordo anche che sarò al Comic Con per presentarlo, quindi farò una presentazione. Farò anche altre cose al comico, ma ci sarà anche la presentazione del mio libro. Appena mi danno le date precise ve lo dico. Io comunque arrivo ai 25 e vado via ai 28, per cui in quel range sono lì anche per la presentazione del libro, ma non solo. Poi vi dirò tutto il prima possibile. E trovate anche il link in descrizione per acquistarlo da Amazon. E vi vorrei ringraziare per tutto il supporto che state dando a questo progetto, perché il libro sta andando molto bene, ho ricevuto un sacco di complimenti, quindi grazie di cuore. Poi a ogni presentazione c'è sempre la folla, cosa che non mi sarebbe aspettato, quindi vi do un bacione. Per cui ora però a bando le cerci, iniziamo subito con il video di oggi. Sigla. Allora, negli ultimi giorni vi avete chiesto in tantissimi di recensire un certo film. E, a onore del vero, è la cosa di cui mi avete chiesto di più di parlare. E io sono rimasto abbastanza stupito perché dal progetto in sé e dai trailer non gli davo una lira. E a quanto pare è piaciuto molto, anche perché lo trovate su Prime Video, ed è il film più visto sulla piattaforma di sempre, se non sbaglio. E questo è accaduto nel giro di pochi giorni, e ha avuto più di 50 milioni di visualizzazioni, che è una cifra enorme. E quindi, dopo parecchie richieste, ho deciso di guardarlo. Mi riferisco ad Una pericola del 24 per la regia di Doug Lyman, ed è Roadhouse, il remake di quello che in Italia si intitola Il duro del Roadhouse con Patrick Swayze. Un film che è diventato con il tempo un piccolo cult. A me non ha mai detto nulla di che, ed è per questo che non è che avessi chissà quale grande aspettativa per quanto riguarda questo remake. Oltretutto mi sono chiesto, ma perché fare un remake di quel film? Da dove nasce l'idea? È una pellicola che ha avuto anche una produzione abbastanza travagliata. Hanno scelto come regista Doug Lyman, che è il regista di film come The Born Identity, Edge of Tomorrow, anche Mr. e Mrs. Smith, pellicole che comunque, bene o male, anni fa sono state piuttosto chiacchierate. Non è esattamente l'ultimo degli stronzi, e lui si è incazzato tantissimo perché il film era previsto per le sale, poi hanno deciso di mandarlo direttamente su Prime Video. E a lui questa decisione non è piaciuta, e posso capire perfettamente perché, da un momento che da regista, è logico che se ti dicono che il tuo film andrà in sale, e poi all'improvviso cambiano idea, lo vogliono mandare solo in streaming, le palle un po' ti girano. Ma paradossalmente, credo che sia stata la fortuna di questo film, perché in sala, onestamente, non so quante speranze avrebbe avuto. È proprio il classico film che vai a vedere, e poi magari esce anche insoddisfatto. Invece, vedendolo in poltrona o sul divano, senza avere chissà quali grandi aspettative, te lo trovi lì nel catalogo, ti sorprende, perché io, ad esempio, mi sono divertito come un cretino. Era da parecchio tempo che non mi divertivo così tanto guardando un film action. Anche perché è un film molto leggero che è stato dato in mano a uno che comunque registicamente ci sa fare. Per cui, la regia di Lyman si vede, giocata molto sui piani sequenza, e su coreografie dei combattimenti che secondo me sono davvero ben curate. Non è questo gran film. Anche la trama, alla fine, non è tanto diversa da quella di un qualunque film con Bud Spencer e Terence Hill. Però il punto è che non sto scherzando, non lo sto dicendo come battuta. Pensate ad altrimenti ci arrabbiamo. Pensate a Io sto con gli ippopotami. C'è, in questo caso, il figaccione di turno, che è un bel tenebroso che picchia come un maniscalco, che deve difendere questo locale dai cattivoni che vogliono distruggerlo per dei loschi piani. Ragazzi, è la trama più base del mondo. Oltretutto, gli stessi dialoghi del film spesso ti suggeriscono cosa volevano fare con questo remake. Sostanzialmente è una sorta di western contemporaneo. C'è lo straniero che arriva nella cittadina, che è subissata dai criminali che fanno il bello e il cattivo tempo, e siccome lui è speciale e più forte degli altri, piano piano riesce a sgominarli e a far tornare la pace sui simpatici residenti del luogo. È questo. Però il punto è che se da decenni si fanno film del genere, vuol dire che forse, forse la formula funziona. Perché comunque io volevo vedermi qualcosa che mi divertisse e che mi intrattenesse. Da quel punto di vista il film fa perfettamente il suo lavoro e capisco come mai le persone abbiano così tanto preso cuore questo film e mi abbiano chiesto in tanti di recensirlo. Perché effettivamente è cinema nella sua forma più pure di intrattenimento fatto come si deve. Ci sono anche un sacco di scene estremamente idiote che però sono palesemente realizzate apposta per dare un tocco umoristico al film che tutto sommato funziona. Jay Gillenar è bravissimo. Lui è sempre bravo dai ruoli più impegnati a quelli più stupidi riesce sempre a fare un buon lavoro. In questo caso si parla di un ruolo che è a metà tra le due cose perché è un ruolo che offre anche diversi spunti comici però il protagonista ha un passato tragico alle spalle sono stati furbi a metterci dentro anche il discorso della UFC che sta vivendo un momento di particolare popolarità. Ho notato che negli ultimi mesi negli ultimi anni anche UFC e WWE e il wrestling in generale stanno avendo un bel boom. Anche in Italia si sta risvegliando un po' la wrestling mania per dire so che sono due cose diverse per l'amor di Dio però come sapete c'è Endeavor che è il gruppo che racchiude tutto quanto per cui WWE e UFC sono nello stesso gigantesco ensemble ormai perché WWE è stata poi acquisita da TKO che è il gruppo di cui fa parte Endeavor comunque sia. Quindi posso anche capire effettivamente come mai tante persone abbiano voluto guardarlo perché all'interno c'è Conor McGregor campione di MMA noto per il suo carattere abbastanza folle e a me ha fatto morire da ridere il meme che si è creato quando è uscito il primo trailer di Roadhouse ovvero le persone che scrivevano sì vabbè ma perché Conor McGregor interpreta se stesso qui interpreta un personaggio completamente folle magari McGregor non è proprio a quei livelli però diciamo che è stato bravo perché gli hanno fatto fare il pazzo che picchia tutti senza motivo e a giudicare dal fatto che anche il buon DJ Francesco è stato pestato senza motivo da Conor McGregor direi che alla fine questo ruolo tanto male non gli calza ecco quindi sicuramente McGregor è stato uno dei motivi per cui la gente ha voluto vedere il film però il fatto che c'entra l'MMA che c'è un campione di MMA si parla di combattimenti in questo periodo tutto ciò ha attecchito sullo spettatore medio e io mi sono divertito proprio perché gli scontri sono realizzati bene non ce ne sono mai troppi ci sono nel momento giusto riescono a prendersi il tempo che serve per raccontare un minimo di trama alla fine non è che lo guardi per la trama questo tipo di film però quando si arriva alla fine che sembra quasi c'è un escalation alla Miami Vice a me ha fatto impazzire è tutto esagerato è tutto tamarrissimo però comunque io mi sono affezionato i personaggi cioè a me l'Hellwood Dalton interpretato da Jake Gyllenhaal è piaciuto a tal punto che io a un certo punto mi stavo preoccupando per lui ed è una cosa che non mi capita spesso di essere talmente coinvolto nella visione da preoccuparmi seriamente per i protagonisti anche se il film è scontatissimo e sai già dal primo minuto che direzione prenderà lo stesso quando lui era in difficoltà pensavo ti prego spero che questo film non abbia un colpo di coda per essere diverso e contrariamente a ogni logica il protagonista muoia si faccia del male ero seriamente in pena per lui e se un film riesce a coinvolgermi fino a questo punto vuol dire che forse forse ha qualcosa da raccontare ha qualcosa da dare quindi intendiamoci non sto dicendo che sia questo film straordinario per l'amor di Dio è una cacata di base però è una di quelle cacate che secondo me ti rimangono un minimo infatti io non escludo che decidano di farci un seguito perché è andato talmente bene in streaming ed è stato così tanto chiacchierato che sarebbero stupidi a non proseguire poi una cosa la voglio dire siamo in un periodo molto particolare per quanto riguarda il cinema il cinema action ok è molto particolare perché come si suol dire c'è stato un game changing negli ultimi anni che si chiama John Wick da quando esiste John Wick la maggior parte dei film action seguono un po' quella formula col one man army e a onor del vero un pochino anche qui qualche strizzatina d'occhio a John Wick c'è però è più un film che si rifà a un periodo del cinema action molto più indietro nel tempo ripeto il paragone con i film di Bud Spencer e Terence Hill non è secondo me così forzato o così sbagliato anzi c'è veramente quel tipo di formula ovviamente umoristica ma meno perché quelli erano proprio film fatti per ridere erano per famiglie sostanzialmente questo magari ci va un po' più pesante negli scontri gli scontri sono violenti per davvero però la formula è grosso modo quella poi non è tanto lontana da quella del duo del Roadhouse dell'originale però secondo me funziona di più qui ok quindi il discorso qual è il discorso è che vedere un film action un po' più vecchio stile con le scazzottate da bar e non per forza l'esercito umano racchiuso in una sola persona che ammazza frotte di cattivi in maniera assurda a me ha fatto piacere perché ad esempio adesso in questa il 4 aprile se non sbaglio esce in Italia questa settimana Monkey Man che è il primo film di Dev Patel che ha avuto una produzione travagliatissima che a me interessa che però è proprio un John Wick like almeno così sembra dai trailer poi lo andiamo a vedere e magari scopriamo che è qualcos'altro però a me sembra che sia proprio il classico clone dei John Wick che vuole sfruttare Londra negli ultimi anni tanto la gente ama così tanto quella formula che se vede un film che somiglia vagamente a John Wick lo va a vedere ormai l'abbiamo capito anche un altro che mi è piaciuto di quel tipo era Io sono nessuno di Lianne Schuller con Boba Denkirk a me quello era piaciuto tantissimo però era un John Wick like spudoratissimo e ce ne sono stati tanti negli anni se vogliamo stare a guardare dello stesso David Leitch che comunque ha scritto le sceneggiature di John Wick ed è anche la regia non accreditato c'era anche Bullet Train che è proprio un film alla John Wick ma su un treno ok che non ha incassato neanche tantissimo in effetti però comunque era stato apprezzato grosso modo per cui a me fa piacere vedere una cosa leggermente diversa oltretutto c'è anche una costruzione molto semplice ma che funziona cioè tu metti un personaggio fortissimo le persone arrivano cercano di eliminarlo ma lui è più forte allora cosa succede a un certo punto ti mettono la sua controparte cattiva per metterlo in difficoltà e si va via via di scazzottate sempre più pesanti con un escalation sempre più feroce fino a che non arrivi nel momento in cui il film la butta completamente in vacca ma non perché non hanno saputo gestirlo ma perché è così che doveva andare si hanno scontri sempre più esagerati fino a che a un certo punto non succedono cose ai limiti dell'impossibile ed è esattamente quello che io volevo dal film in quel momento cioè è una pellicola che mi ha sinceramente dato dell'intrattenimento come non lo ricevevo da diverso tempo e questo a me fa tanto piacere perché oggigiorno trovare film action che siano così divertenti non è esattamente facile perché c'è stato un tale boom nel genere che secondo me si sono un po' seduti escono film sempre più uguali tra loro e non è mai semplicissimo trovare qualcosa che combini una buona regia con una sceneggiatura semplice in quanto vuoi ma comunque ben scritta con personaggi interessanti sono tutti elementi che non sono semplici oggigiorno da far stare insieme perché le produzioni tendono a cercare di capire cosa vuole il pubblico e ad ascoltarlo un po' troppo e quando una produzione ascolta il pubblico secondo me le cose non vanno mai bene perché è vero che devi intercettare l'interesse del pubblico ma non devi ascoltarne tutti i suggerimenti perché chi fa parte del pubblico di solito non ha idea di come si gira un film invece oggigiorno si tende ad ascoltare il parere delle persone sui social e alla fine vengono fuori spesso delle ciofeche allucinanti perché? perché lo spettatore non dovrebbe diventare sceneggiatore regista se non è del ramo quindi a me ha fatto piacere che un Doug Liman che ha fatto film comunque anche di un certo livello perché comunque per quanto a me non sia mai piaciuto non sia mai piaciuta la saga dei Bourne il suo non era male Edge of Tomorrow ne ho sentito parlare male da molti però in realtà come film action ci stava quello con Tom Cruise di lui che muore di continuo è tratto da Unity's Kill la light novel quindi io francamente sono rimasto sorpreso dal fatto che un Lyman abbia deciso di mettere le sue competenze che per amor di Dio non sono quelle di chissà quale grande registrone ma di uno che ci sa fare è un po' più di un buon mestierante lui perché definirelo mestierante secondo me non è neanche corretto perché ha un suo stile riconoscibile se voi guardate Edge of Tomorrow Mr. e Mrs. Smith il suo film Subborn eccetera noterete che la sua regia è sempre quella cioè c'è una sua cifra stilistica non è quello che ti fa il compitino e basta è uno che comunque è abbastanza bravo qua ci sono dei momenti a livello di combattimento con la soggettiva del protagonista che le prende che a me hanno tirato dentro a forza nell'azione cioè a un certo punto ero lì che le prendevo nel bar e a me questa cosa ha fatto impazzire perché comunque non mi aspettavo di trovare una regia così sul pezzo in quello che a me pareva un filmetto peraltro e qui dirò una cosa forte credo che sia uno dei pochissimi casi in cui il remake secondo me è nettamente superiore rispetto all'originale lo ripeto il duro del Roadhouse è un film che a me non ha mai detto un cazzo l'ho sempre trovato un film cos'era anni 80 90 forse più anni 80 molto tipico che è diventato cult forse solo per Patrick Swayze negli ultimi anni era diventato un meme per la battuta dei Griffin del Roadhouse con Peter che tirava calce a qualunque cosa perché aveva visto il film con Swayze e francamente a un certo punto io mi sono detto beh però forse può essere una nuova tendenza cioè tu prendi filmetti del passato che però hanno una loro fanbase e li migliori perché a questo punto preferisco di gran lunga questo film rispetto all'originale anche se in realtà volendo è la perfetta attualizzazione perché quel film andava bene per l'epoca in cui è uscito se tu lo riprendi e lo adatti ti viene fuori per forza una roba del genere è perfettamente adattato alla nostra epoca quindi probabilmente chi lo ha visto negli anni 80 e 90 e ce l'ha nel cuore troverà questa una cacata io che non l'ho mai avuto nel cuore preferisco di gran lunga l'attualizzazione di quella storia con la protagonista in questo caso Jake Gyllenhaal per quanto io stimi tantissimo Swayze e la sua morte mi avesse toccato molto all'epoca peraltro lui recita in quello che è il mio film preferito che è Donnie Darko dove era Jimmy Cunningham per cui è un attore che portavo molto nel cuore però quel film non mi aveva mai fatto impazzire qui non lo so quando ci sono Gyllenhaal e Gregor che si scazzottano in quel modo sembrava si menassero davvero ho pensato beh certo che se a uno piacciono i film in cui si danno botte da orbi questo è oro obiettivamente è uno dei film con i rissoni più interessanti che ho visto negli ultimi anni perché non sono le classiche scazzottate alla John Wick che culminano con la morte dei personaggi no queste sono proprio risse sono proprio i classici rissoni da bar e tra l'altro ho apprezzato la colonna sonora che è azzeccatissima per cui anche dal punto di vista della fotografia c'è uno studio sulle luci che in alcuni momenti era effettivamente molto interessante quindi se lo contestualizziamo all'ambito che appartiene ovvero quello della cazzatona che deve essere divertente intrattenere per me è un film davvero davvero buono se lo prendiamo cinematograficamente in sé è una cacatona che magari non lascerà grosse tracce nella memoria non penso che verrà ricordato particolarmente ma che senza alcun motivo ha un comparto tecnico buono il che lo eleva come film aggiungiamoci che J. Guilherme si è impegnato tantissimo e secondo me si è anche divertito parecchio a interpretare questo personaggio perché ripeto lui è sempre bravo però qui si vedeva che gli stava piacendo Conor McGregor lo hanno talmente incasellato in un personaggio perfetto per lui che anche se non è un attore ne esce benissimo perché di fatto deve fare il matto e lui il matto è per cui va bene così poi c'è Daniela Melchior che è un personaggio anche interessante secondo me Jessica Williams che interpreta la carta Frankie la proprietaria del Roadhouse insomma alla fine i personaggi funzionano il film nel complesso porta a casa il risultato che si sperava ottenesse ne vorrei di più così francamente se me ne facessero altri che vanno direttamente su Prime Video va benissimo poi vorrei chiarire questa cosa io sono uno che sceglierà sempre la sala quando ci sarà l'alternativa se un film esce in streaming esce in sala io lo andrò sempre a vedere in sala se ne ho la possibilità però diciamo che ci sono dei film che ogni tanto guardandoli in sala penso questo poteva uscire anche solo in streaming so che qualcuno potrebbe dire no lo streaming non deve mai essere la prima scelta però se vogliamo guardare da un punto di vista del marketing per quanto Doug Leiman abbia perfettamente ragione a risentirsi per quello che gli hanno fatto è un film che forse rende di più in televisione che al cinema e non è una cosa che dico spesso però ripeto se fossi andato a vederlo in sala non so quanto ne sarei uscito soddisfatto invece così si creano le condizioni per apprezzarlo maggiormente è un discorso che ho fatto anche con Zack Snyder's Justice League che a me ha divertito l'ho visto anche più volte se quel film fosse andato in sala probabilmente mi sarei rotto i coglioni anche perché dura 4 ore ma sai 4 ore sul divano con calma secondo me te lo godi un po' di più sai che non sei dovuto uscire andare al cinema magari prendendo la macchina pagare il biglietto poi per un film che dura 4 ore alla fine ora che esci ora che devi essere la prima ora che torni ti sono partite altro che 4 ore molto più di 4 ore è questo il senso ok se invece te lo guardi a casa sei sul divano quando accendi sei sul divano quando spegni magari ti ha fatto cacare però pazienza non hai dovuto spenderci soldi eri lì con la mano sullo scroto a grattartelo sono altre condizioni ecco questo è il classico film che forse visto in sala non mi avrebbe appagato più di tanto visto così in televisione in un momento di tranquillità era esattamente quello in cui avevo bisogno anche perché voi dovete sapere che io i film li guardo quasi sempre la sera solo che ieri sera volevo guardarlo prima di vedere la WWE solo che purtroppo il mio micio Geralt ha avuto la bella idea di sentirsi male poverino e ci siamo presi uno spavento che non vi sto neanche a dire ha iniziato a fare una roba strana poi l'abbiamo portato a vedere dal pronto soccorso veterinario e per fortuna ci hanno detto probabilmente si è fatto un pochino male perché deve essere caduto era sul lavandino lui è entrato sul lavandino deve essere caduto quindi insomma aveva anche era anche un po' costipato hanno fatto la radiografia ed è saltato fuori che forse cadendo dal lavandino si è fatto un po' male perché magari gli è venuto un dolore al pancino perché era già costipato e è venuto da noi sbarellato che sembrava essere convulsione è iniziato a miagolare in una maniera stranissima ci siamo cagati sotto quindi non sono riuscito a vedere il film e francamente quella cosa mi ha messo uno spavento tale che anche oggi era ancora un po' scosso ok perché comunque stava bene un secondo prima ha iniziato a star male sembrava stesse morendo un secondo dopo per cui ho deciso di dire ciao siccome non ho visto i film ieri lo guardo oggi pomeriggio e registro la recensione verso sera sconvolgendo la mia routine che per me che sono abitudinario è una cosa terribile siccome ero ancora un po' scosso e insomma erano e sono stati un paio di giorni in cui sono successo un paio di sfighe avevo bisogno di qualcosa che mi rilassasse ero lì sul divano accendo il film ha iniziato a farmi ridere di gusto per certe cose che ci sono dentro e mi sono reso conto che avevo bisogno di una cosa del genere quindi per una volta lasciatemi dire che forse veramente come ho detto anche all'inizio la forza del film è proprio l'essere uscito subito a disposizione di tutti su Prime Video perché francamente mi ha migliorato l'umore io non ero di grande umore oggi adesso che l'ho appena finito di vedere o l'ho finito di vedere poco prima di iniziare la recensione io sono un po' rilassato mi sono divertito ripeto non un grande film non qualcosa di eccezionale però ogni tanto ma vanno bene anche questi film qua che magari non ti richiedono chissà quale grande capacità di ragionamento però sono piccoli film di trattenimento scritti e diretti decentemente o a volte basta questo il problema della maggior parte è il film di trattenimento di oggi che sono scritti col buco del culo e non ci si mette impegno io penso a Godzilla X-Kong Godzilla e Kong il nuovo impero so che a tanti è piaciuto so che ha aperto come il migliore incasso di apertura di un film da 2024 e questo mi fa piacere perché comunque significa che la gente torna al cinema quindi anche se a me il film non è piaciuto va benissimo però per quanto uno possa divertirsi ecco quello per me non è ciò che io intendo come film di trattenimento se mi chiedete cosa ho apprezzato tra Roadhouse e Godzilla e Kong il nuovo impero ma vi dico Roadhouse tutta la vita cazzo ma tutta la vita perché è un film scemo di intrattenimento ma scritto e diretto bene Godzilla e Kong ha una scrittura pessima e una regia che fa abbastanza ma pietà no perché comunque Wingard è bravo però è una regia senza guizzi cioè Wingard ha fatto molto di meglio nella sua carriera e quindi francamente se parliamo dell'intrattenimento preferisco cento volte una cosa come questa che almeno ha dei personaggi a cui ti affezioni e non quelle cacate che abbiamo visto nel film di di Godzilla e Kong uno dice ma cosa c'entra sono due film diversi beh sono sempre nella sfera dell'intrattenimento sono sempre film ma non particolarmente di concetto che mirano esclusivamente intrattenere lo spettatore Godzilla e Kong il nuovo impero mi ha annoiato alla lunga questo neanche per un secondo questo dura due ore e ci fosse stato mezzo secondo in cui ho pensato uffa quando finisce anzi due ore che a me sono sembrati dieci minuti quindi benvengano film come questo io sono contentissimo e spero che me ne facciano altri cazzo che per in video inizi a puntare su questo tipo di prodotti capendo che funzionano va benissimo alla fine è un po' come avere una wave dei nuovi film da cassetta quante volte uscivano film solo in un video questa è la stessa cosa a me va benissimo così onestamente quindi poi i suoi difetti li ha non è che sia un film privo di difetti è esageratissimo ci sono delle scene che sono di una stupidità incredibile fatta apposta quanto volete per l'amor di dio però siccome non abbiamo la certezza che siano fatta apposta potrebbe essere un difetto per me è un pregio però magari qualcuno potrebbe dire scusa ma perché mentre si scazzottano la band continua a suonare non ha senso hanno anche cercato poco prima di fargli la pelle è una cosa stupida ma me ha fatto ridere però capisco che uno potrebbe dire ma che è sta cacata per l'amor di dio anche il fatto che a un certo punto per il personaggio sembri superman e abbia questa forza che è giustificata dalla trama ma forse un po' troppo anche qui potete vederla in due modi è una cacata oppure è una roba talmente tamarra idiota che funziona in quel momento quindi sì non stiamo parlando di questo grande capolavoro del novecento ragazzi ma se lo contestualizziamo a ciò per cui è stato creato per me funziona alla perfezione e anche i personaggi secondo me ci stanno tutti quindi fatemi sapere un conto qui sotto cosa ne pensate voi vi è piaciuto non vi è piaciuto lo riguardereste fatemelo sapere io vi abbraccio vi ringrazio grazie a tutti tanto ma tanto bene noi ci vediamo se il film non l'avete ancora visto se invece l'avete visto e avete saputo in un video specifico gli spoiler iniziano tra 3 2 1 allora innanzitutto a me è piaciuto molto come hanno gestito e caratterizzato il personaggio di Edwood Dalton perché comunque è un ex atleta della UFC che ha esagerato durante un combattimento e ha spaccato di botte l'avversario anche dopo che ormai questo aveva perso aveva già vinto però per l'appunto ha avuto questo scatto e a un certo punto il criminale Ben Ben Berent gli chiede ma perché l'hai fatto avevi vinto mi sono sempre chiesto perché hai fatto questa cosa lo capiamo sulla fine lui praticamente ha un problema gigantesco di gestione della rabbia e quando lo fanno incazzare sul serio non si ferma più tant'è vero che a un certo punto da persona che si preoccupava che le persone che pestava anche se se lo meritavano avessero cure mediche non si facessero troppo male a un certo punto ne ammazza uno perché ha dato fuoco alla libreria della ragazzina che l'ha accolto quando è arrivato nelle Florida Keys quindi questa cosa mi piace perché alla fine lui diventa veramente iperforte però ci sta lo stesso ci sta lo stesso perché comunque la cosa mi ha divertito bellissimo che alla fine riesce a sconfiggere Nox il personaggio di McGregor pugnalandolo con queste schegge di legno e che nella scena dopo i primi titoli di coda vediamo Nox che scappa dall'ospedale perché ovviamente non era morto per questo che dico fateci un seguito cioè un seguito con Elwood e Nox che si alleano contro qualcuno io lo vedrei stra-iper-volentieri sinceramente poi è bello che la trama sia così semplice cioè ci sono i criminali che vogliono andare al suo in roadhouse perché è proprio la cosa più semplice del mondo si frappone tra i territori posseduti dal cattivo per creare un resort per ricchi quindi altrimenti ci arrabbiamo vogliono il terreno dove sorge luna parca per poter farci un parcheggio e mandano gli scagnozzi a fare casino è quella roba lì è sempre lo stesso a me questa cosa fa morire da ridere perché è veramente una trama sciocca anche da western volendo proprio la trama più basica del mondo però cazzo dopo tanti anni una cosa che potremmo avere imparato tutti è che le storie più semplici sono quelle che funzionano di più star wars almeno agli inizi non è che avesse questa storia particolarmente complessa eppure funzionava la maggior parte dei film di intrattenimento che funzionano hanno storie magari viste e straviste però conta il modo in cui le metti in scena poi tu vuoi vedere un film con gente che si picchia e ragazzi questo è servito cioè ci sono dei momenti in cui combattono in cui si picchiano che secondo me hanno delle coreografie eccezionali con sti piani sequenza lunghissimi non è la classica regia blanda dei film action che si vedono oggigiorno ci sono fatte per Joe Wick che sono diretti molto bene però a me piace questa cosa a me piace l'idea che si curi così tanto la regia per un film che non avrebbe bisogno di una tale cura e questo ci insegna che cosa che forse basta regalare qualcosa che sia fatto con impegno e che abbia un'idea dietro e può essere semplice quanto vuoi ma arriverà ad adempiere al suo compito perché alla fine che cosa vuole fare Roadhouse vuole divertire lo spettatore vuole dargli dell'intrattenimento sano basato sul sulla fisicità le persone che si picchiano però poi ed è anche una trama che comunque funziona cioè io ho riso come un matto e mi ha fatto mi ha fatto pensare perché è una cosa di black humor anche parecchio studiata mi ha fatto morire da ridere quando arriva Del il bifolco stronzo che prima cerca di investirlo col pick up poi Elwood si salva arriva sulla barca dove vive si trova Del col fucile riesce a disarmarlo lo butta in acqua e arriva il coccodrillo di cui si era parlato qualche scena prima a mangiarsi il cattivo a me questa cosa ha fatto impazzire perché ho detto cazzo non mi ricordavo più del coccodrillo quando è arrivato il coccodrillo io ho iniziato a ridere e stavo ridendo per la scena in cui è morta una persona questa per me è la potenza di una sceneggiatura semplice ma ben scritta perché effettivamente tutti i tassani te li mette a un certo punto lui arriva sulla barca e gli dicono stai attento al coccodrillo però eh e tu questa informazione la metti lì quando il tizio cade in acqua io ho detto aspetta ma ma non è che e mentre lo pensavo bam arriva il coccodrillo perché mi sono ricordato in quel momento ho detto cazzo il coccodrillo anche quando lui va da Brent e fa saltare la barca quella scena comunque è realizzata anche bene con i combattimenti sott'acqua frenetici ma sempre chiari eh secondo me è così che si fa un film action senza pretese che poi però riesce a fare di più di quello che può fare un film action con pretese oggigiorno è un modo di fare cinema molto lineare molto semplice ma allo stesso tempo è anche il modo di fare cinema con la c maiuscola nel senso che come dicevo prima non possiamo pensare che tutti i film debbano essere film sofisticati che ti stimolano ragionamenti il cinema nasce come intrattenimento e secondo me il problema grosso è che di questi tempi trovare un film intrattenimento realizzato veramente bene non dico che sia difficile ma non è neanche così facile pensate alla grande infilata di blockbuster fallimentari dello scorso anno se ne fosse salvato mezzo pochissimi si sono salvati tipo la sirenetta che era stato un mezzo flop a me aveva anche divertito per l'amor di dio però non me lo ricordo non mi era piaciuto minimamente Transformers il risveglio The Flash sappiamo com'è andata raga sono usciti tantissimi blockbuster che hanno fatto un buco nell'acqua quindi l'intrattenimento è una cosa seria soprattutto quando parliamo di intrattenimento cinematografico a me sembra che negli ultimi anni si sia completamente perso di vista come fare film di intrattenimento che funzionino arriva Doug Leiman ti fa un film che poi viene buttato subito in streaming e ti fa un successo alla madonna Doug Leiman non penso che sia contento perché lui voleva giustamente che film andasse al cinema ma al cinema un film del genere come sarebbe stato accolto per me sarebbe stato un flopino secondo me sarebbe stato un film che poi avrebbe comunque fatto il suo una volta in streaming ma col fatto che è un film nuovo che era un film atteso da alcuni e che andasse subito disponibile nelle case di tutti lo ha reso più accessibile e quindi il discorso di prima sì a me dispiace io preferisco sempre che un film vada in sala però secondo me ci sono degli specifici casi in cui forse lo streaming può fare del bene affinché altrimenti in sala non sopravviverebbero soprattutto nel mercato odierno è un po' questo il problema quindi io mi ci sono divertito la scena in cui ci sono i tizi che suonano col pestaggio più violento del film con McGregor che arriva con la mazza alla golf lì ho pensato ma questi che cazzo continuano a suonare tra l'altro McGregor aveva anche aperto la gabbia per menarli e loro continuano a suonare e anche quando il pestaggio è finito arriva Frankie per vedere i danni al locale e ci sono loro che suonano e io ho pensato ma perché è stupida come cosa ma credo volessero che fosse così stupido è proprio un momento non sense quasi che secondo me non stona neanche devo essere sincero poi i personaggi sono simpatici da Frankie al personaggio della Melchior al padre di Leil lo sceriffo corrotto persino Ben Brent il cattivone è un personaggio comunque patetico che a me è piaciuto il fatto che venga ucciso da da Nox che gli spezza il collo perché si è rotto i coglioni di sentirlo cioè boh anche il fatto che Nox sia Dalton cioè Elwood ma più folle cioè sono complementari infatti è l'unico che riesca a metterlo in difficoltà e comunque alla fine Dalton vince lo stesso e se ne va e a me vedere lui che se ne va dalle Keys ha fatto tristezza perché ho detto ma cacchio aveva anche trovato un posto dove si trovava bene dove stava superando il trauma di quello che aveva fatto e se ne deve andare e è bello perché finisce con tutti che sono rimasti toccati in qualche modo dalla sua presenza lui che se ne va malinconico ma felice perché sente di aver fatto finalmente qualcosa di giusto nella sua vita ha aiutato della brava gente quindi è un po' anche qui è un po' il western con il pistolero senza nome tipo Clint Eastwood che arriva nella città risolve tutti i problemi e poi se ne va nel nulla come dal nulla è arrivato quindi secondo me anche qui hanno trovato il modo di far funzionare una trama molto semplice vista mille volte ma caratterizzandola dandole dei guizzi rendendola una cosa un po' più diciamo a sé con una sua cifra stilistica alla fine è un film che fa perfettamente il dovere per cui è stato realizzato e a me personalmente questa cosa è piaciuta tanto quindi questo è quello che pensavo circa Roadhouse in maniera un pochino più specifica diciamo in un contenuto cosa ne pensate voi io vi abbraccio vi ringrazio grazie e noi ci vediamo al prossimo buon vlog ciao a tutti